Diciamo che l'importante è che conoscono bene il percorso e l'importante è che capiscono bene quali corridori fanno la corsa e quali corridori devono arrivare all'arrivo e questo si spiegherà tutto nella riunione che faremo prima della corsa. Si parla velocemente della tappa di ieri e poi si parla di quello che i ragazzi dovranno fare nella tappa di oggi. È molto importante conoscere il percorso, è molto importante l'alimentazione per poter essere ancora performanti nell'ultima salita. Dipende un po' con quale corridore sto parlando, quando parlo ci sono dei corridori che interessa solo sapere il tempo, quanto distacco hanno e dei corridori che invece hanno più richieste per quel che riguarda la strada, il percorso, quanto manca all'inizio della salita, quanto curve ci sono nella discesa, pericolose o meno pericolose. Abbiamo due corridori che ormai si sa sono Menti e Secosta, cercheranno di fare la corsa con i corridori che puntano la classifica generale e abbiamo degli altri corridori che dovranno essere nella fuga di giornata. Cercheranno di stare vicini il più possibile in caso di foratore, bisogno di acqua per dare questo aiuto.